Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti e attenti al lupo. Questa sera parliamo della casa. È davvero ripartito il mercato delle compravendite? Qual è il valore delle nostre case? Soprattutto quanto pesano le tasse? C'è qualche novità in arrivo? Ne parleremo questa sera con i nostri ospiti. Ma come sempre partiamo da una lettera che ci avete scritto da casa, proprio su questo argomento, con una domanda estremamente interessante. Vero Maris? Buonasera. È verissimo Giuseppe, buonasera a te, ai nostri ospiti, ai nostri telespettatori. Allora andiamo subito a scoprire cosa ci ha scritto la signora Angela da Milano, dalla provincia di Milano. Ebbè sì, è una domanda che in realtà non ci è arrivata solo da lei, ma abbiamo preso lei come portavoce per tutti quanti voi che ce l'avete chiesto questa domanda. Allora, la lettera ci dice, gentile e attenti al lupo, vi scrivo per chiedervi un consiglio. Da alcuni anni sono rimasta vedova e vorrei vendere la nostra grande casa di famiglia per ritirarmi in una più piccola e aiutare economicamente i miei due figli. Non riesco a capire però se dopo tanti anni di crisi è arrivato davvero il momento giusto per vendere o se conviene forse aspettare ancora. Molti mi dicono che per un immobile grande come il mio il mercato non si è ancora rimesso in moto. Come sta avvenendo invece per le case più piccole? Come stanno davvero le cose? Mi potete aiutare? E allora, aiutiamo subito la signora Angela. Allora, buonasera ai nostri ospiti, al presidente di Confedizia, Giorgio Spaziani-Testa. Buonasera. Buonasera. Buonasera al presidente nazionale della FIAEP, la federazione italiana degli agenti immobiliari professionali, Paolo Righi. Buonasera. Presidente Paolo Righi, allora possiamo subito dare una risposta? Poi lo chiederò anche al presidente di Confedizia. Insomma, è arrivato il momento. Può fare questo cambio questa nostra telespettatrice? C'è una casa grande? Dice che me ne faccio da casa grande? Posso magari venderle e comprarle una più piccola? È il momento giusto? Bisogna aspettare ancora? Allora, sicuramente per vendere non è il momento giusto perché i dati di oggi, solo i dati di oggi, ci dicono che si è arrestato al ribasso dei prezzi che ormai si protrae da circa otto anni. Quindi alla signora Angela dico aspetti, porti pazienza perché chiaramente i prezzi sono ancora molto molto bassi. Per una ripresa dei prezzi però bisognerà attendere a lungo perché l'imposizione fiscale, penso che ne parleremo dopo, è ancora talmente opprimente che difficilmente gli acquisti si rivolgono ad appartamenti così grandi che possono avere un carico fiscale molto molto pesante. E parleremo poi delle tasse anche per spiegare che forse c'è qualche novità in arrivo, lo chiederemo ai nostri ospiti. Novità mi sembra non tanto possibile però lo chiederemo. Presidente, ma per quanto riguarda la domanda della nostra telespettatrice, un tempo le case di tutti erano abbastanza grandi, 100-150 metri quadri. Ora invece c'è una ricerca di case molto più piccole, un po' perché è cambiato il nucleo familiare. In tanti stanno riducendo, trovando più case, realizzando più case all'interno della propria abitazione. È possibile? È un fenomeno frequente questo che sta succedendo? È un fenomeno che vorrebbe essere frequente, nel senso che c'è molto questa esigenza perché spesso persone anziane rimangono sole, soprattutto nelle grandi città, in case molto grandi. Purtroppo non è molto semplice dal punto di vista del rispetto della normativa urbanistica e quindi il frazionamento degli immobili non sempre è facile da fare. Con riferimento alla domanda, sono d'accordo con Paolo Righi, non sarebbe questo il momento, però è difficile anche dire quando potrà essere il momento buono, nel senso che i prezzi sono bassi. Sono anni che stiamo aspettando questo risveglio, qualcuno dice è arrivato, poi vedremo i dati che sono proprio usciti ieri, però è davvero un risveglio interessante? O insomma il paragone con gli scorsi anni dove la crisi era abbastanza evidente, quindi basta poco per dare un là a questo mercato? Non dico che si tratta di illusioni, ma quasi, nel senso che parliamo intanto soprattutto di numero di compravendie, di questo si è parlato in questi giorni, mentre di prezzi ancora non si parla in termini di rialzo. E anche come numero di compravendie sono solo dei parziali ricoperi di quello che si è perso, serve molto molto di più. Mari, se vogliamo dare i nostri riferimenti a casa? E allora, ricordiamo subito le nostre coordinate, prima fra tutti ovviamente il numero verde, gratuito anche per i cellulari, potete partecipare alla diretta, quindi chiamando il numero 800 508 990, se volete anche scrivendoci ad Attenti al Lupo su Facebook o con l'hashtag Attenti al Lupo su Twitter. Allora, Presidente Righi, boom di compravendie, lo sentiamo, poi ascolteremo anche dei pareri che abbiamo preso ieri in questo convegno organizzato dall'Agenzia delle Entrate e dall'Associazione delle Banche. Ma è un boom di compravendite che però, come dice il Presidente di Confedizia, non riguarda però il valore effettivo delle case, reale. Cioè, se io ho comprato una casa, 200 mila euro alcuni anni fa, ahimè, non è che sta ancora a 200 mila euro. Purtroppo quel valore sarà molto più basso, è così? Certo, sarà molto più basso perché, appunto, come dicevo prima, il calo dei valori è stato del 30-40%. Quindi questi numeri, peraltro, di aumento del numero di compravendite, si rivolgono solo a una certa fascia del mercato che è quella dell'acquisto delle prime case. Naturalmente, sapete che le prime case godono di un'agevolazione fiscale e due anni fa il governo Renzi ha tolto la tassa sulla prima casa. O meglio, è stata ritolta la tassa sulla prima casa. Quindi coloro i quali, un po' sfiduciati dagli investimenti immobiliari, la crisi delle banche, anche sugli investimenti, Anton Veneta e altre banche, insomma, tutti le conosciamo, che cosa accade? Che si rivolgono all'investimento immobiliare ma acquistano solo su prima casa perché altrimenti la tassazione è troppo invasiva. Quindi è legato soprattutto all'aspetto fiscale? Il mercato ha perso da 10 anni gli investitori, cioè quelli che investono per trarne profitto. E questo ha generato la crisi che poi ha portato a 800.000 perdite di posto di lavoro nel nostro comparto. Quindi è un fatto legato esclusivamente all'acquisto della prima casa. Se uno deve comprare la casa dove andare a vivere, conviene. Magari anche venderla e acquistarne un'altra. Altrimenti sono tutti bloccati. Un tempo si faceva l'investimento del mattone e fermo perché ci sono troppe tasse. Presidente, anche lei condivide? È assolutamente così. Quello che si sta parzialmente recuperando è l'acquisto dell'abitazione principale, o nuove famiglie che si creano o miglioramenti di situazioni familiari, chi vuole ingrandirsi o migliorare. Quello che manca è l'investimento e ricordiamo dei dati. È vero sì che siamo aumentati in termini numeri rispetto al 2015, 16 rispetto al 2015, ma rispetto al 2011, cioè prima dell'Imu, siamo ancora a meno 15% e rispetto al 2008, crisi internazionale, siamo a meno 25% come numero di compravendite. Se le dico queste due parole, riforma del catastro, come possiamo tradurre per i nostri telespettatori? Perché abbiamo detto che sulla prima casa non si paga. Non si paga nulla come tasse, o comunque sono estremamente ridotte, sono una serie di tasse, ma non si paga. Sulla seconda e sulle altre case, beh, la mazzata è notevole. Però, se dovesse avvenire questa riforma del catastro, di cui si parla, prima si parla, poi sparisce improvvisamente, e beh, cambierebbe un po' tutto. Improvvisamente dovremmo pagare un po' di più tutti, è così? Ma si farà questa riforma del catastro, come dicono? Se si farà, bisogna vedere. Non credo sia il caso di farla in fine legislatura, e quindi spero e credo che si sia bloccata l'ipotesi che era tornata così un po' in auge di farla in questa fase. È una cosa molto seria, molto delicata, che non si può fare a fine legislatura, e soprattutto con una instabilità di questo tipo. La gente, le persone, i proprietari, hanno paura di una cosa molto semplice, che è l'aumento della tassazione conseguente. Si è stabilito il principio dell'invarianza di gettito, cioè non aumento delle tasse, con l'ultima riforma che poi è stata bloccata, però servono garanzie precise che questo avvenga, e finora noi ne abbiamo avute. Allontanato il pericolo della riforma catastrale. Possiamo spiegare brevemente, Presidente, in un minuto che cosa vuol dire poi questa riforma catastrale per chi ha un appartamento? Adesso gli appartamenti, i valori vengono calcolati, su cui si pagano le tasse, vengono calcolati a vani, a stanze, diciamo, e in futuro ci sarà il metro quadro. Allora prendiamo l'esempio proprio della signora Angela, che è rimasta vedova, e ha un grande appartamento a Milano. Il pericolo è che la riforma del catastro indichi la signora Angela come una ricca proprietaria di case, perché ha un appartamento molto grande. Allora, di questi problemi nella riforma del catastro ce ne sono tanti, o ad esempio quella di aumentare i valori catastrali nei centri storici, ma non sempre nei centri storici tutti gli immobili sono ristrutturati, ricordo ci sono le case popolari, ci sono gente che ha ereditato immobili. Insomma, diciamo che, come diceva giustamente il Presidente di Confedilizia, è una riforma che va fatta comunque, ma va fatta con calma, e non deve essere solamente una riforma a scopi fiscali, cioè per fare crescere le tasse. E non deve servire a far cassa, a prendere i soldi, insomma, a prendere i soldi in un'altra forma rispetto alla tassazione sulla prima cassa. L'equità è un'altra cosa, e ce lo dice proprio l'esempio della signora Angela. Prima di venire il servizio abbiamo email e telefonate, mi sembra, in arrivo. Allora, tante domande, ma prima andiamo a Reggio Emilia, precisamente a casa del signor Celso, che ci ha chiamato. Buonasera, signor Celso. Buonasera. Ci dica. Io volevo sapere, ho una casa abbastanza grande, intestata a me e mia moglie. È il momento buono per provare a intestarla anche alle figlie? Ecco. Grazie. Tutte domande molto pratiche. Chi risponde? Che lo chiediamo al Presidente Lafiai. Qui entriamo nel campo della donazione, naturalmente, no? E comunque anche le donazioni sono tassate fino a un certo limite, così come anche, diciamo, quelle che sono le eredità. Però il tema è che se è prima casa per i due coniugi, per i due genitori, potrebbe non essere prima casa per i figli, se hanno la residenza altrove. Quindi potrebbe capitare che le due figlie vadano a studiare, prendano residenza in un'altra città e attraverso la donazione si ritroverebbero a pagare come seconda casa delle tasse. E il luogo, ricordiamo che per non pagare la tasse, è il luogo dove uno abita, risiede, sostanzialmente dove... La residenza, perché io posso avere la residenza da un'altra parte e vivere in un'altra città per motivi di lavoro o meno. Quindi è bene che la coppia di coniugi controlli bene le figlie dove lavorano, dove vivono, per accedere comunque alla prima casa. Vogliamo vedere, insomma, questo convegno che si è svolto ieri, i dati, si parla di un più 18% per quanto riguarda le compravendite. Abbiamo sentito un po' di pareri delle persone che erano presenti. Marta Manzo, vediamo che cosa ci raccontano. Nel 2017 noi abbiamo un mercato immobiliare in crescita in tutti i settori, in particolare nel settore residenziale, con un più 18,9%. C'è stata una generalizzata crescita del mercato residenziale in tutte le aree del paese e in tutte le dimensioni demografiche dei comuni. Questo è un fatto, diciamo, che va preso come un fatto positivo, sicuramente. Bisogna verificare se questo rappresenta la partenza di un vero e proprio nuovo ciclo, oppure se invece è soltanto, diciamo, un momento congiunturale favorevole. I fattori sono sicuramente molti, vanno dall'abbassamento dei tassi a una maggiore fiducia negli investitori, soprattutto nelle famiglie, ma credo che un ruolo importante abbiano giocato anche le agevolazioni fiscali che negli ultimi tre anni hanno cercato di incrementare quello che è, in fondo, l'investimento preferito dalla famiglia media italiana. Conviene ancora acquistare la casa, quindi? Conviene comprare la casa. Acquistare la casa se è un acquisto rivolto all'utilizzo diretto, quindi abitazione principale. Qualche dubbio in più rispetto all'opzione di investimento, dove conta la fiscalità, contano le prospettive dei valori. In questo momento non c'è una chiarezza di queste prospettive che induca l'acquisto. Queste sono le indicazioni che ci sono arrivate ieri dall'Agenzia delle Entrate e dal Convenio dell'Abi. Poi sentiremo proprio un rappresentante delle banche, perché poi dobbiamo capire, prendere casa, ma bisogna fare un mutuo, lo chiederemo anche ai nostri ospiti. Però chiedo al Presidente di Confedilizia, per mettere a reddito un'abitazione, una casa, che uno magari ha in eredità o l'ha acquistato dopo tanti sacrifici. Un inquilino dentro, oggi qualcuno dice che è pesante, difficile, perché in tanti rischiano di non pagare, perché c'è la crisi. Molti si sono orientati sul cosiddetto bed and breakfast o sulla casa vacanza. È un fenomeno davvero in grande ascesa nel nostro paese. È l'unico modo per tenere il reddito in quella casa, in quell'appartamento, in quell'abitazione che abbiamo? È un modo interessante, soprattutto per certe zone d'Italia. Non in tutta Italia è possibile avere questo mercato, perché consente in molti casi, diciamocelo francamente, di pagare almeno le tasse su quella casa, perché se si tratta di una casa ulteriore rispetto a quella di residenza, ha i muettasi ai livelli massimi. È un mercato che però rischia molto, perché bisogna dirlo, c'è una forte pressione di alcune categorie, le cito espressivamente, gli albergatori che stanno spingendo fortemente perché sia un settore, un mercato limitato, vincolato e gravato di oneri per limitarlo. Mentre è una ricchezza per questo paese, dovrebbe essere garantita, incentivata ed agevolata. L'affitto breve è possibile in tante zone dove, tra l'altro, le strutture alberghiere non ci saranno mai. È una risorsa per il paese, consente di ripopolare alcuni bordi. È un paese come l'Italia, è un paese turistico. Sarebbe un autogol incredibile fare, come si rischia di fare in Parlamento in questi giorni, una manovra contro la locazione turistica che è invece... Quindi una nuova tassazione su chi ha... Ma soprattutto vincoli anche di tipo contrattuale, amministrativo, oneri, adempimenti e burocrazia che scoraggerebbero questa attività. Sono gli ostacoli principali del nostro paese. Una volta si diceva lacci e laccioli, diceva un personaggio delle istituzioni. Allora, Maris. E allora, tante domande stanno arrivando su Twitter. Un utente ci ha scritto, perché non viene abolita l'imposto di registro? Non sarebbe forse un incentivo a comprare di più? Beh, chi risponde? Presidente, Presidente di Confedizio. Non basterebbe, è importante dirlo, e soprattutto il posto di registro per gli immobili che non sono prima casa è molto, molto alta, dovrebbe essere perlomeno diminuita, ma non sarebbe risolutiva, perché il problema è poi la tassazione annuale ricorrente su quegli immobili, soprattutto appunto quelli diversi da prima casa, quelli dati in affitto, quelli che si vogliono dare in affitto, ed è un disincentivo enorme la tassazione per l'appunto annuale. Vedo tante domande che stanno arrivando, cerchiamo di esaurirle tutte. E allora, diciamo che con questa domanda rispondiamo a quattro almeno telespettatori che ci chiedono a quanto ammonta la provvigione dell'agenzia immobiliare e più o meno quanto dura l'incarico? Allora, non rispondo subito e velocemente, non vi è una tariffa di agenzie, queste sono state abolite vent'anni or sono, diciamo, quindi ci sono le città metropolitane dove si paga un pochino di più, tra il 3 e il 4% e le province dove effettivamente i prezzi delle provvigioni sono più basse. Però l'importante è trattare la provvigione con l'agente immobiliare e fare un accordo scritto e metterlo per iscritto, in modo che non vi siano lamentele successivamente poi alla vendita. L'incarico, un buon incarico perché la gente possa lavorare con tranquillità e investire sull'immobile e su tutte le attività, va da 6 mesi a 12 mesi. Altra domanda, Maris. Un'altra domanda ci arriva dalla signora Daniela Dal Molise che ci chiede ma la provvigione, ma chi la paga? Chi vende o chi compra? Chi paga la provvigione? Presidente, la fermo perché tra qualche istante ce lo spiegherà, ma noi dobbiamo assolutamente vedere qualche istante di pubblicità. Entriamo in studio, stiamo parlando della casa, di quello del mattone che amiamo tanto, ma insomma è anche tassato in maniera enorme, come dicevano gli ospiti in studio. La domanda di Daniela, prima la pubblicità era su chi paga, chi compra o chi acquista la provvigione all'agenzia? Presidente. In Italia gli agenti immobiliari sono terzi alle parti, quindi fungono da garanzia per sia il compratore che il venditore, quindi le provvigioni vengono pagate da ambo le parti. Poi, se ci sono accordi diversi, la legge permette anche all'agente immobiliare di far pagare una parte o l'altra, quindi con mandato a titolo veneroso. Quindi abbiamo la possibilità che l'agente immobiliare può fare sia il mandatario che quello che tutela le parti. Ricordiamo che in altri paesi la provvigione che viene pagata solo dal venditore diventa poi un costo per l'acquirente e le provvigioni sono molto più alte. Titoli di Stato in negativo. Azioni che hanno questa oscillazione estremamente complicata, altalenante. Ma il mattone è ancora un investimento, anche il piccolo mattone, comprare un negozio, un garage, anche un piccolo appartamento, può essere ancora un investimento nel medio e lungo periodo, Presidente? Dovrebbe esserlo ed è proprio per i motivi che diceva che è strano e che è grave che non si riprenda così come dovrebbe il mercato immobiliare, perché ci sono tutte le condizioni per che si riprenda. Mutui bassi, manovre europee che conosciamo, prezzi in discesa, elementi ulteriori, quelli che ha citato lei. Se non avviene quello che avviene, cioè l'aumento... C'è paura? Vuol dire, intanto si può temere che alcune somme siano nascoste da qualche parte, inteso anche, come intendo anche il classico materasso, e questo è gravissimo in sé. Ma vuol dire che non c'è fiducia nell'investimento immobiliare, quindi nell'acquisto non destinato all'abitazione propria, perché il motivo, siamo sempre lì, è quello della tassazione. Se io compro un immobile o per abitarlo o per averne un reddito, non può esserci altro. Qualsiasi altro investimento ha questa finalità, non si vede perché non debba averlo l'immobile. Non è consentito in Italia avere questo tipo di finalità. Che proposta le farebbe a livello di tassazione? Lo chiedo ai due ospiti brevemente, in un minuto, perché abbiamo tante domande. Qual è la sua proposta? Proprio in 60 secondi. Allora, quella ideale è fare al contrario lo shock fiscale che si è fatto nel 2011, cioè ridurre di diversi miliardi le imposte sull'immobile. Questa però è utopia in questa situazione di mancanza di coraggio dei governi. Concretamente io comincerei dagli immobili commerciali, che sono una fonte storica di investimento delle famiglie italiane, i piccoli locali commerciali che acquistano solo le famiglie, non i grandi enti, non le grandi società, e che sono massacrati letteralmente dal fisco, non danno più alcun reddito e fanno sì anche che il commercio soffra e le città soffrano. Riduzione della tassazione sugli immobili commerciali. Presidente Righi, la sua proposta in 60 secondi. Molto brevemente. Se avesse il Presidente del Consiglio qui. Togliere, ma gliel'abbiamo detto varie volte. Però lo ribadiamo. Però diciamo che bisogna togliere ogni forma di tassazione patrimoniale. In questo Paese si usa sempre, si usa tassare i beni che non producono un reddito. Allora, bisogna imparare che le tasse si pagano per i servizi ricevuti o per i redditi. Invece, purtroppo, nell'immobiliare c'è una tassazione molto alta semplicemente perché siamo proprietari di casa. E questo è profondamente sbagliato. Maris, le domande? E allora, Luisa, da Roma ci chiede, ma questo è un buon momento per vendere in nuda proprietà? Sono in tanti a chiederci. Molte persone anziane. La nuda proprietà è un fenomeno in grande ascesa. Cioè la possibilità di vendere quell'appartamento, ma restare all'interno dell'abitazione. Però si rompe quel vincolo di affetto, magari con i vipoti, con i figli. Un tempo la casa veniva tramandata. Presidente, così. Purtroppo è vero, i dati sono in un momento, è indice di una situazione di difficoltà generale e anche di difficoltà economiche delle persone. Quindi è un fenomeno che continua, non c'è un momento in cui sia così migliore o peggiore come scelta. È per qualcuno purtroppo una scelta obbligata, bisogna dirlo. Il vantaggio della nuda proprietà, quale può essere? Assolutamente di dare tranquillità a colui che vende la nuda proprietà proprio perché rimane nel possesso dell'appartamento fino al fine vita. Quindi il pensionato che ha bisogno di liquidità, che deve aiutare i nipoti, può realizzare una somma però con la garanzia di rimanere e di avere una casa. Quello è importante. Guardate, noi abbiamo contestato molto il prestito vitalizio perché fa indebitare le persone, mentre la nuda proprietà permette veramente a coloro i quali hanno lavorato una vita di godersi la propria abitazione e lo stesso di avere un po' di denaro. Il rapporto con le banche, comprare casa, purtroppo è un vincolo indissolubile quello con la banca. Sentiamo com'è la situazione. Abbiamo chiesto a uno dei responsabili principali dell'Associazione Bancaria Italiana. Vediamo. Cosa emerge da questo report nel 2017? La conferma di un trend sostanzialmente positivo in linea con quello dell'economia italiana. Per quello che riguarda il contributo dell'ABI, l'indice di capacità delle famiglie di sostenere l'acquisto di una casa è migliorato anche quest'anno. Quindi diciamo un quadro di un paese in ripresa. Cresce la fiducia delle famiglie per il futuro. Che significa questo? È un ulteriore elemento positivo in linea con un quadro che vede l'economia italiana in ripresa, ancorché una ripresa da corroborare perché è necessaria una maggiore crescita del nostro prodotto interno l'ordine. E aumenta anche la disponibilità delle banche al credito? Certamente è stato visto anche il dato sui mutui che è forse l'indicatore della maggiore capacità del settore bancario di sostenere la domanda di credito, soprattutto quella per l'acquisto delle prime case. E allora, Presidente Enricchi, mutui a tasso fisso, a tasso variabile, con il cosiddetto tetto. Cosa conviene fare in questo momento storico? L'aumento del numero delle compravendite sulle prime case è dato anche dal fatto che mai gli spread sono stati, i tassi sono stati così bassi. E quindi conviene comprare. Noi diciamo sempre che ogni mutuo ha il suo cliente. Chi ha un reddito fisso, cioè chi è impiegato, chi è dipendente, è assolutamente invariabile perché riesce a parametrare la rata al proprio stipendio. L'imprenditore, colui che può avere in qualche anno anche fonti aggiuntive di denaro, può avventurarsi in un variabile. L'importante è comunque, per chi fa il variabile, mettere un cap, cioè un massimo all'appagamento. Il tetto. Il tetto che protegge in qualche modo la persona, si fa qualcosa in più, ma c'è sempre un tetto che ci protegge da eventuali cambiamenti repentini dei mercati. Maris? Giovanna, da Roma ci dice, io ho una seconda casa dove praticamente non ci vivo, diciamo così, ho una casa di vacanza e quindi consumi assolutamente zero, però le spese sono minimo, almeno di 44 euro. Quindi voleva sapere se c'è stato un aumento, quindi non conviene. Presidente Spazionetesta, questa è proprio la fotografia della difficoltà. Io non consumo, non ci vado in questa casa, però alla fine i costi sono elevati. Peraltro in alcuni condomini non si riesce mai neanche a pagare ormai le spese condominali. C'è un problema anche nelle riunioni di condominio. L'amorosità con le spese condominali aumenta ed è un indice anche questo di difficoltà. Ci sono difficoltà anche nel pagamento delle utenze che sono maggiori, peraltro, se non si tratta di case e abitazioni. In più ci sono IMU e TASI. Questo a riprova del fatto che una casa in più non è un lusso e bisogna che renda qualcosa e quindi in quel caso magari quella persona la riesce a mettere in affitto, non so, un mese l'anno, ma neanche riesce a pagare le spese relative a quella immobile. E quindi questo dovrebbe far pensare anche chi, come si diceva prima, sta provando ad ostacolare la locazione breve che invece è un modo anche per tentare di permettersi una casa in più. Lei che ha il polso del mercato, i nostri genitori avevano il sogno di una piccola casetta al mare, in campagna, in montagna. E' tramontato definitivamente ora? Il sogno non è tramontato, ma nessuno acquista più? Il sogno non è tramontato e faccio notare che nel 2000, stiamo aspettando i dati di fine 2016, nel 2014 41.000 italiani hanno comprato casa all'estero e nel 2015 sono stati 49.000. Quindi il sogno non è finito, gli investimenti e gli italiani si vanno dove c'è la possibilità di avere un reddito. Quindi oltre a esportare i cervelli, i nostri ricercatori all'estero, stiamo esportando anche gli amanti della casa e degli investimenti immobiliari. Speriamo che il governo ponga fine, questo fenomeno. Grazie davvero ai nostri ospiti. Abbiamo scattato una fotografia della situazione del mercato immobiliare. Grazie a Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, la federazione italiana agenti immobiliari professionali. E grazie davvero al presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani-Testa. E per stasera è tutto, Maris. Per questa sera è davvero tutto. Un grazie ovviamente va anche a voi che ci avete seguito da casa e un buon proseguimento di serata. Vi ricordiamo l'appuntamento con Attenti al Lupo è domani alle ore 19. Non perdere, domani sera. Buon pure sera.